tutto pronto partiti cavalli della quarta corsa del pomeriggio la maiden la partenza per tutti ma il più veloce è arsenio che si porta subito al comando nei confronti di the aris man in terza con la giuba bianca e verde will to fly che precede che l'altra giuba bianca in verde di occhio alla penna le cui spalle gravità train dragon anticipato da age of ultron da dangerous subject poi in mezzo al gruppo con la giuba celeste c'è baballi confronti di zabel jack chiude il gruppo nanga parbat anche in questo caso anticipato da silver way e da pasquino si procede così con ancora arsenio in vantaggio the aris man che lo tallona in terza posizione troviamo occhio alla penna poi dangerous subject precedere baballi che ha recuperato un po di posizioni poi troviamo will to fly train drago ancora age of ultron zabel jack alle loro spalle con ancora silver way pasquino nanga parbat e tutto il resto del gruppo siamo in cima con ancora davanti arsenio tallonato adesso da dangerous subject in terza posizione c'è occhio alla penna in quarta the in quinta di dentro baballi in sesta posizione percorsi esterne train drago poi age of ultron e tutti gli altri siamo alle intersezioni delle piste con arsenio sotto la pressione esterna da parte di dangerous subject occhio alla penna che va di dentro poi the aris man che ha qualche problema di impiego dal centro la pista prova a venire avanti age of ultron che con un volo si porta in assoluta evidenza è quello che ha fatto il parziale più veloce in questa fase sempre arsenio davanti age of ultron che però lo va ad attaccare e passa in vantaggio quando ancora manca tantissimo age of ultron ha preso una cosa come tre lunghezze al primo degli inseguitori ci provano dall'esterno train drago ci prova anche pasquino in maniera ancora scomposta age of ultron è passato e poi ha girato verso l'esterno ma è tutto sotto controllo per lui viene a vincere facile la maiden nei confronti di train drago e per il terzo posto c'è ancora arsenio avvicinato da occhio alla penna vince il figlio di zoffani bello stile direi che dopo aver testato l'all weather torna in erba complice anche il terreno pesante vince facilmente mostrando ancora un po di freschezza age of ultron vice numero uno dello schieramento nei confronti dell'undici vediamo se abbiamo lo stretto per certificare la nostra impressione gabriele cannarella in sei in line il training è quello di agostino affè colori della blue castle quota di 14 era atteso l'altro di scuderia arsenio ha vinto invece age of ultron in totale controllo nella fase finale vediamo per il secondo il terzo posto per completare il quadro numero 11 train drago e poi sono vicini arsenio e occhio alla penna vediamo chi è terzo molto stretta anche in questo caso ci rimettiamo al verdetto del giudice d'arrivo dal nostro punto d'osservazione sembrerebbe il 7 occhio alla penna è tutto grazie a tutti grazie a tutti